Ciao carissime, sono Zonke e oggi, nella Mahba Academy, vi mostreremo come realizzare una spirale per erbe aromatiche. In questo video imparerete passo dopo passo come realizzare una spirale per erbe aromatiche fai da te. Vi mostreremo a cosa prestare attenzione per assicurare la buona riuscita del progetto, ma anche quali utensili del vostro ben fornito centro hobby vi occorreranno per il lavoro. Per il progetto abbiamo chiesto l'aiuto di Stefan che ci ha fatto vedere come si fa. Guardate voi stessi. La realizzazione di una spirale per erbe aromatiche ha un grado di difficoltà di 3 su 5. Per il progetto dovreste preventivare circa mezza giornata, compreso il tempo per gli acquisti nel centro hobby. Fatevi aiutare da un amico o da un'amica. Nel nostro caso ho realizzato la spirale insieme a Stefan. Per la preparazione cercate un luogo adatto alla spirale e definite le dimensioni. Nella fase successiva pianterete i paletti in legno e fisserete il tutto con filo metallico. Riempirete le zone della spirale con miscele di terriccio diverse. Metterete a dimora le piantine e concluderete con un'abbondante innaffiatura. E ora rimbocchiamoci le maniche e iniziamo a costruire la nostra spirale. Una spirale come questa non solo fa risparmiare spazio, ma con le sue altezze diverse assicura anche condizioni di luce e terreno ottimali per le varie erbe aromatiche. Prima di tutto abbiamo cercato un posticino al sole e definito le dimensioni della nostra spirale. Accertatevi che non ci siano troppe radici nelle vicinanze, altrimenti piantare i paletti in legno potrà risultare abbastanza difficile e soprattutto faticoso. Prendete un tubo flessibile lungo 4,50 metri e posatelo sul terreno, dandogli la forma di una spirale. In questo modo potrete già visualizzare bene il progetto. Per essere precisi fin dall'inizio abbiamo preso le misure più volte, con un metro pieghevole. Accertatevi che il diametro sia di un metro e venti e che la distanza da un tratto di tubo all'altro sia di 30 centimetri. Potrete quindi tracciare la forma della spirale con la sabbia. Seguite l'esterno del tubo, altrimenti la spirale risulterà troppo stretta. Accertatevi anche che l'uscita sia rivolta verso sud, così tutte le piante riceveranno abbastanza luce dal sole. Un altro piccolo suggerimento. Procedete sempre dal centro verso l'esterno, così manterrete la visuale d'insieme. Come marcatura, piantate un paletto in legno al centro. Già così abbiamo ottenuto un effetto molto ordinato. Ora mettiamoci al lavoro. Ora vogliamo piantare i paletti in legno nel suolo. Il primo palo deve entrare per 30 centimetri nel terreno, così sarà sempre stabile. Come potete vedere, i listelli sono disponibili in lunghezze diverse, altrimenti dovreste piantarli sempre più a fondo nel terreno. Ogni palo successivo deve essere piantato a una distanza uguale dal precedente, ma a una profondità un po' maggiore. La profondità dipende dalla quantità di pali, ma anche dalla differenza tra il palo più alto e il palo più basso, quindi bisogna fare un po' di calcoli. Per questo abbiamo preparato un piccolo schema, così potrete seguire meglio la procedura. Iniziate con il palo al centro e costruite la spirale passo dopo passo procedendo verso l'esterno. Ecco come appare la spirale sdrotolata. I pali hanno lunghezze diverse e si inizia dal più lungo. Il palo principale dovrebbe fuoriuscire dal terreno di circa 80 centimetri, quindi ogni palo successivo dovrà essere piantato più in basso di 1,4 centimetri, ovvero alla larghezza di un dito. In ogni zona i pali devono essere un po' più corti rispetto alla zona precedente. Così potranno essere conficcati a una profondità sufficiente e voi potrete mantenere la graduazione. Il risultato sarà una forma a gradini piacevolmente uniforme. Gli ultimi pali sporgeranno dal terreno per appena 10 centimetri. Troverete lo schema anche nelle istruzioni disponibili per il download. Altri due piccoli consigli per usare il martello. Meglio indossare dei guanti gommati, perché se vi scivola il martello può colpire rapidamente le dita o anche un occhio. Secondo consiglio. Cercate di colpire i pali con tutta la superficie utile del martello inclinato a 90 gradi, così eviterete la formazione di schegge nella parte superiore. È una questione di allenamento e in Stefan ho davvero trovato il mio maestro. I pali sono già conficcati nel terreno e ora vogliamo stabilizzarli ulteriormente. Niente paura, il lavoro è molto semplice. Prendete del filo metallico per recinzioni con un diametro di almeno un millimetro e alcune grappe per il fissaggio. In alternativa va bene anche una corda di cocco. Iniziate passando il filo metallico intorno al primo palo, poi intrecciate un po' le estremità. Ora tagliate la parte in eccesso con la pinza e infine fissate con la graffa e il martello. In seguito passiamo il filo dall'esterno intorno alla spirale e lo avvolgiamo intorno a un palo ogni tre. Tutti i pali saranno quindi collegati uno dopo l'altro e si stabilizzeranno a vicenda. Piccolo consiglio, se attorcigliate il filo come nel video, i giri saranno più stretti e assicurerete ancora più stabilità. In più, il risultato sarà davvero professionale. Nella fase successiva riempiremo la spirale e dovremo innanzitutto contrassegnare ogni singola zona con la sabbia. Per zone diverse vi occorreranno ovviamente anche miscele di terriccio diverse. Qui abbiamo riassunto brevemente per voi i tipi di miscele di terriccio che occorrono. Zona superiore. Terreno sabbioso. La miscela è composta da terriccio per trapianti e sabbia in parti uguali. Nel nostro caso sono due sacchi di terriccio per trapianti e sei sacchi piccoli di sabbia. Zona centrale. Il terreno è neutro e quindi occorre solo del terriccio per trapianti. Nel nostro caso si tratta di tre sacchi da 60 litri. Zona inferiore. Terreno con compost in proporzione di 4 a 3. Quattro parti di terriccio per coltivazioni biologiche e di erbe aromatiche e tre parti di terriccio per trapianti. Nel nostro caso sono due sacchi di terriccio bio e mezzo sacco di terriccio per trapianti. La parte teorica è terminata. Ora passiamo alla pratica. Nella carriola abbiamo preparato la miscela di terriccio per la zona che andremo a riempire. Si parte con il primo strato in basso. Versiamo la miscela, distribuiamo bene e andiamo avanti. Prima di proseguire con il passo successivo, inseriamo un telo di drenaggio in non tessuto. Servirà come protezione dalle infiltrazioni, ma anche per far defluire l'acqua in eccesso, senza di lavare il terreno nella spirale. Poi si procede strato dopo strato con le altre zone. Quando tutta la spirale è stata riempita, potete tagliare il telo in eccesso. Bene, il grosso del lavoro è fatto. Ora passiamo alla parte più piacevole. Mettere a dimora le erbe aromatiche. La disposizione delle erbe aromatiche è definita ovviamente dalle zone. Una raccomandazione, nella parte superiore dovreste piantare erbe aromatiche del Mediterraneo, come il rosmarino. Dovremmo piantare la nostra erba cipollina al centro, in combinamento a erbe come melissa e artemisia. È senz'altro la combinazione migliore. Alla fine della spirale potremmo aggiungere, ad esempio, una menta, che ha bisogno di molta acqua. A proposito, dove si accumula? Risposta esatta, in basso. Avete dei dubbi? Date un'occhiata da Obi e parlate con uno dei nostri collaboratori super competenti. Di sicuro non potrete più sbagliare. Abbiamo terminato il lavoro. Ora possiamo innaffiare e coltivare le nostre erbe aromatiche. Provate anche voi e buon divertimento! Abbiamo concluso il progetto e spero che vi sia venuta voglia di imitarlo. Se state cercando altre idee per il giardino, abbonatevi al nostro canale e scriveteci i vostri commenti, domande o desideri. E non dimenticate, fatto con Obi! A presto, a presto!